Ma al 76 al 78 di Via del Pratello lo sa cosa c'era prima? E' un pochino più in là dopo l'introso Non si sono dati quelli lì? Sì sì Hai capito quelli che come li chiamano? Quei beduini Sì, io li chiamo beduini Adesso ne ho visto uno prima che andava mezzo nudo Le donne sono tutte con i cappellini Sì Sì? Sì! Sì! Grazie a tutti.